Dire per esempio che il comune di Castelvetrano paga per ogni quintale 4,50 euro, mentre noi ne paghiamo 90 euro, beh, dico la verità, se fosse così io non sarei il sindaco di Mazzara Zanisvallo, sarei il tuo cretino dei soggetti che camminano per la strada, ma una qualunque persona razionale deve forse una domanda. E' mai possibile? E' mai possibile? Consiglio Randazzo! Non c'è bisogno! Consiglio Randazzo! Non c'è bisogno! Il pezzo è Giorgio! Non ti preoccupare! E' mai possibile? Fate, fate, Gengimende! Questa è segura! Gordo, tu senti! Gengimende! Grazie, grazie! Gengimende, Gengimende, Europa! Grazie, così! Allora, quando la cosa stessa, il progetto è un razzo non si perdisce! Va bene, non si prenderà! Gengimende! 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 Quando qui si dice! Quando qui si dice! Gengimende! Quando qui si dice! e quando non 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 stasera qualche giorno io sono quello che io vorrei scappare da più tempo 7 persone quindi state sereni e campi calmi state sereni e campi fate venire il sindaco di stadio prego lo sindaco mi scusi torno alla questione strategica e dicevo sarebbero bastati 4 cammi sarebbe bastato aspettare 4 cammi prendere atto dei costi eccessivi della manutenzione fatto che abbiamo denunciato noi in diverse occasioni e l'abbiamo denunciato non soltanto a questa gestione l'abbiamo denunciato anche alle gestioni precedenti perché vedete le accuse dell'attuale commissario di stadio di stadio Grazie.